Drake è uno dei rapper più famosi e di successo al mondo, ma in questi ultimi giorni si trova nel più grande scandalo della sua carriera. Dato che nel dissing con Kendrick Lamar, Kendrick ha rivelato delle informazioni su Drake che se fossero confermate, non solo si tratta di azioni gravissime, ma che probabilmente sarebbero la fine della sua carriera. E visto che proprio in questi giorni c'è stata una spalla fuori casa di Drake, dove è stato colpito uno dei suoi bodyguard, la situazione potrebbe prendere una piega ancora più negativa, molto in fretta. Negli ultimi giorni del dissing tra Kendrick e Drake in America se ne parla dappertutto. In Italia non così tanto, ma comunque se ne sta parlando molto, ho visto che anche il TGU non ci ha fatto un servizio. Devo dire che siamo in una timeline molto strana, ma non me ne lamento, va bene se continuano a parlare di questo invece di prendere le clip dei miei video senza contesto. Ma il motivo per il quale sto facendo un video su questo dissing è perché nonostante di solito non si parla di rap in questo canale, è perché questo dissing all'inizio poteva essere visto dai fan come uno scontro tra due dei migliori rapper americani su chi è il migliore, ma ha preso una direzione piuttosto seria. Non si tratta nemmeno più tanto di musica o chi fa testi migliori, la cosa principale sono delle accuse gravissime che si sono lanciati a vicenda, soprattutto contro Drake, che se fossero confermate sarebbero non solo uno shock enorme per il mondo dell'intrattenimento e della musica, ma probabilmente la fine definitiva per Drake. Quindi vista l'enorme gravità di quello che sta succedendo e come passerà alla storia del rap, ma anche perché quando ho condiviso un post nelle storie di questa vicenda, un po' di persone mi hanno scritto che non stanno capendo quello che sta succedendo, quello che faremo oggi sarà nella prima parte di questo video un recap di cosa è successo e il perché, e poi nella seconda parte ci concentreremo sulle conseguenze che secondo me sono la cosa più importante e che tantissime persone stanno preintendendo. Drake e Kendrick non mi metto da presentarli, entrambi due rapper estremamente famosi e di successo, anche se con stili, cultura e musica molto differente. Per un periodo della loro carriera erano anche in buoni rapporti, hanno fatto anche qualche collaborazione e concerto insieme. Nel corso degli anni però hanno cominciato a lanciarsi qualche frecciatina, a vicenda ma niente di troppo importante fino al dissing di quest'ultimo periodo. Tutto ha avuto inizio a ottobre 2023, J. Cole e Drake pubblicano una canzone, dove ad un certo punto J. Cole dice che gli piace quando le persone discutono su chi è il più forte nel mondo del rap, tra Drake, Kendrick e appunto se stesso J. Cole, dicendo che loro sono i Big 3. Non succede niente fino a marzo 2024, quando in una canzone con Future praticamente Kendrick dice fanculo agli altri Big 3, c'è solamente lui, cioè lui è il migliore. Poi fanno altri giochi di parole per fare riferimento a Drake, ma che non ci metteremo ad analizzare, perché Kendrick è un genio quando si tratta di questi doppi sensi, riferimenti vari, e staremo qui una settimana per analizzare tutto quello che dice. In seguito il 5 aprile risponde J. Cole a questo dissing, con una traccia di un mixtape, tutta contro Kendrick, tuttavia subito dopo si è scusato pubblicamente con Kendrick durante un concerto per quello che ha fatto, dicendo che è stata una cosa di cui si pente, e col senno di poi sapendo quello che Kendrick ha fatto a Drake, penso che sia stata una mossa assolutamente geniale. Nel frattempo varie artisti cominciano a prendere in giro Drake, che finalmente decide di rispondere a quel verso di Kendrick, dove diceva di essere il migliore, e lo fa pubblicando due canzoni. La prima, Push Ups, e la seconda, Taylor Made Freestyle. In questi brani Drake di fatto prende in giro Kendrick per essere basso, per aver dovuto cedere metà dei suoi guadagni a un'etichetta, e poi lo incita a rispondere. E Kendrick a questo punto decide di rispondere, e qua è dove la questione prende tutta un'altra piega, perché finora, come abbiamo visto, quello che si dicevano era autoproclamarsi il migliore, o presa in giro sull'altezza, cose abbastanza leggere, possiamo dire. Ma al 30 aprile Kendrick pubblica una canzone, e ci va molto pesante. C'è la parte ormai leggendaria, in cui gli dice di odiare tutto quanto su Drake, lo accusa di inventarsi storie sul suo passato, di non sentirsi abbastanza nero, questo perché Drake è mulatto, ma più che altro è per tutti i featuring che fa con artisti neri che vengono dalla strada, e molti pensano che Drake lo faccia per associarsi a una cultura che in realtà non è sua. Gli dice anche che gli dà fastidio quando Drake dice la n-word, e un'altra parte molto importante è quando gli dice di non dire bugie su di lui, così che non dovrà dire la verità su Drake. In seguito pubblica anche un'altra canzone su Instagram, dove di fatto avverte Drake di avere degli infiltrati nel suo gruppo, che gli stanno condividendo informazioni riservate. Drake a questo punto risponde il 3 maggio, con una canzone in cui accusa Kendrick di violenza domestica contro la moglie, e che uno dei figli nati in questa relazione, in realtà sarebbe figlio di uno dei migliori amici di Kendrick. E a questo punto Kendrick, dopo neanche un'ora dall'uscita di quella canzone di Drake, pubblica un nuovo pezzo che è devastante a dir poco. Io pagherei per vedere la reazione di Drake quando ha pubblicato la sua canzone, e pochi minuti dopo l'hanno informato che Kendrick aveva già pubblicato un nuovo dissing, ed è senza ombre di dubbio il più cattivo di tutti. Si chiama Meet the Grams, Grams è il cognome di Drake, e il concept di questo pezzo è che Kendrick si rivolge direttamente ad alcuni membri della famiglia di Drake, uno per volta, come se fosse una lettera rivolta singolarmente a ognuno di loro. E spiega come Drake è una pessima figura in ciascuno di quei ruoli, quindi come padre, figlio, eccetera, eccetera. E la cosa davvero grave è che in questa canzone, ma anche in quella che esce poco dopo, accusa Drake di moltissime cose non molto belle, tra cui essere un pessimo padre, avere dipendenze dal gioco d'azzardo, alcol e droghe, e molte altre, ma le due più importanti in assoluto sono di avere una figlia di 12 anni, che sta tenendo non solo nascosta, ma che non se ne occupa proprio, più o meno come aveva fatto anche con il suo figlio, che ora ha reso pubblico da qualche anno, anche quello rivelato con un dissing, ma questa è un'altra storia, e Kendrick lo accusa anche di essere un pedo***o. Come se non bastasse Kendrick, nella seconda canzone che ha fatto uscire poco dopo, di fatto ripete le stesse accuse, ma l'immagine di copertina di questa canzone è una foto della casa di Drake scattata dall'alto, con una serie di indicatori rossi sulla casa, e in pratica quegli indicatori significano che rendono evidente la presenza di dei predatori sessuali in quella casa. Di fatto, riprendendo il testo delle canzoni, dove accusa Drake, ma anche i membri del suo team, di esserlo. E questa fondamentalmente è stata la pietra tombale di questo dissing, almeno finora. Drake ha risposto prima con una storia Instagram, dove di fatto dice che non ha una figlia, e che se qualcuno la trova, se gliela può mandare insomma, e successivamente risponde anche a delle accuse più gravi, come quella di essere un pedo***o, ma lo fa in un modo che è onestamente terribile. Permesso che se qualcuno ti accusa di qualcosa, deve essere lui a dimostrarlo, che lo sei, e non tu che dimostri di non esserlo. Ma in ogni caso, se vuoi difenderti, lo fai in un modo recente, e Drake questo non l'ha fatto. Infatti si è difeso con una canzone che ha pubblicato, e c'è un punto, che dice che si aspettava queste accuse, diciamo di avere come preferenze ragazze, molto 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 giovani, e poi che sarebbe troppo famoso per fare quelle cose, ed essere un pedo***o. Che a mio parere, è la peggior cosa che potesse dire, in sua difesa, è vero che se sei famoso, tanto quanto lui ovviamente, hai tanti occhi puntati addosso, giornalisti, tutto quello che vuoi, che sono preoccupazioni che la persona media, non ha, nel momento in cui vuole fare qualcosa di legale. Ma allo stesso tempo, grazie alla sua posizione, ha anche molte più risorse, contatti, e possibilità per farla franca. Per questa accusa, per i gusti di Drake, infatti di ragazze, sono stati ripescati tantissimi tweet, in questi giorni, di frasi un po' strane, dette negli anni da Drake. C'è anche un video, in cui fa salire sul palco, una ragazza di 17 anni, che bacia, dopo averle chiesto l'età. Non so quale sia l'età del consenso, in quello stato in cui si trovava, ma, insomma, è una situazione un po' particolare, e ce ne sono molte altre simili. Ma questo ci porta direttamente a ciò che vi dicevo, di cui volevo parlare, e di come queste sono solamente delle accuse, che di fatto non hanno realmente nessun tipo di prova a sostegno. Come abbiamo visto, questo dissing è partito in un modo e definito in maniera totalmente diversa. Sono partiti vantanasi di essere migliori, o comprese in giro sull'altezza, fino ad accuse di fare cose con delle bambine, o picchiare la moglie. E noi come pubblico, non abbiamo la minima idea se queste cose sono reali, oppure no. Ovviamente qui, non è come nel video dell'area della giusta di turno, che l'ho criticato per aver fatto quell'uscita. Qui è un dissing, letteralmente vuol dire disrespect, un ambiente totalmente diverso e ci sta che l'abbiano trattato in questo modo. Dal punto di vista del dissing, il vincitore è chi, secondo il pubblico, ha fatto le canzoni migliori ed è riuscito a sputtanare meglio l'altro, fondamentalmente. E finora l'opinione pubblica della stragrande maggioranza delle persone è dalla parte di Kendrick. Anche banalmente guardando il rapporto di like, l'ultima canzone di Drake, che secondo me è stata la peggiore in sua difesa, ha più dislike che like, mentre Kendrick ha un rapporto di like molto positivo. E anche dalle reazioni nella vita reale si nota. Uno storico di Drake, per esempio, è stato vandalizzato con i testi della canzone di Kendrick. E c'è anche stato qualcuno che ha sparato fuori casa di Drake colpendo una delle sue guardie del corpo, anche se non è detto che sia collegato a quello che sta succedendo e potrebbe essere per altri motivi, anche se però mi sembra evidente che il tempismo è un po' strano. E anche a mio parere, nonostante tutti e due mi piacciono come cantanti, Kendrick ha stravinto finora. Ma se il pubblico può decidere chi ha vinto il dissing non penso possa fare lo stesso nel decidere se le accuse sono vere oppure no, senza nessuna prova. Infatti a questo punto la questione, a mio parere, è più che altro che o Drake è davvero una persona disgustosa oppure Kendrick è un bugiardo. E se Kendrick avesse mentito allora perderebbe tantissima credibilità. C'è anche da dire che nell'ultima canzone Drake ha detto di aver fornito apposta quelle finte informazioni sulla figlia e sulle minorenni a Kendrick per ingannarlo. Ma onestamente è detta così e basta per me non è molto credibile. Cioè se la vera avessero organizzato tutto quanto per manipolarlo allora avrebbe mostrato anche qualche screen o qualche prova che l'ha fatta apposta a fornire quelle informazioni. Semplicemente dire l'ho fatta apposta a dirtelo non è troppo credibile. Infatti molte persone non ci stanno credendo. Anche perché diffondere queste gravi accuse su se stesso senza mostrare delle prove che sono finte o che gliele date lui apposta non hanno fatto altro che danneggiare gravemente la sua immagine. Anche perché il dissing di Kendrick per il momento ha molte più views rispetto a quello di Drake. Quindi tantissime persone sanno la sua versione ma non la risposta. E tra l'altro per me non coincide neanche per come si è comportato dato che nel momento in cui è uscito il dissing di Kendrick Drake ha risposto con quella storia in cui dice che non ha una figlia. Se fosse stato tutto programmato avrebbe mostrato le prove che gliel'aveva detto lui. Su Drake hanno sempre fatto dei meme ma siamo passati da quelli dove mettevano i suoni di cartoni animati a quelli in cui viene accusato di fare cose inappropriate con delle bambine. Direi che siamo a due livelli piuttosto diversi. Ma anche mettendo la parte per un attimo le accuse da tutte le parti che non sappiamo dei testi l'approccio e tutto quanto a mio parere Kendrick sta a dieci spanne sopra Drake e sono curioso di sapere la vostra opinione su chi sta vincendo tra i due per ora. Io spero che Kendrick farà uscire ancora qualcosa in questi giorni era scatenato ha fatto uscire una canzone dietro l'altra anche pochi minuti dopo Drake e non voglio credere che abbia già finito. In ogni caso per questo video direi che è tutto io ringrazio come sempre gli abbonati per il supporto se non lo fate ancora seguitemi anche su Instagram il link è in descrizione e noi direi che ci vecchiamo alla prossima